un saluto a tutti da snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su castle clash siamo con l'account di salvo dark 02 che voglio ringraziare per questo video rolling e devo anche scusarmi del fatto che lui mi ha dato 18 mila gemme ragazzi infatti dal titolo leggerete 18 mila gemme però adesso sono 13 mila cinquecento perché il programma con cui stavo registrando si è bloccato vito dal fatto che non esca un bene amato nulla o sta cosa è disastrosa mentre registravo non mi sono accorto che si era bloccato e quindi devo ricominciare adesso però ragazzi vi giuro non vi siete persi nulla perché 4500 gemme rollate finora e non è uscito nemmeno ragazzi nemmeno un leggendario quindi il fatto che non sia uscito nemmeno un leggendario comporta che non vi siete persi niente e in più dovrebbero uscire tutti quanti ora quindi mi scuso ancora per questo inconveniente tecnico che anche la prima volta che succede da quando faccio rolling a qualcuno quindi davvero mi scuso di nuovo per non per aver mancato nel video queste queste gemme che c'erano da 18 mila fino a 13 mila cinque e possiamo andare a continuare infatti ragazzi faccio vedere le carte accumulate finora ecco sono queste tutte questi blu e tutti questi verdi neanche ragazzi ne ha soltanto linfe viola sono uscite soltanto linfe neanche un eroe quindi andiamo subito con un 150 ripartiamo erano 18 mila non è uscito nulla quindi dai dai allora sta cercando michael rodolfo e in più molte copie dei vecchi eroi quindi speriamo ragazzi trovare qualcosa perché sono anche sconcertato dal fatto che non sta uscendo nulla attenzione primo leggendario stregone vediamo se ce l'ha stregone non lo so si stregone ha due carte quindi immagino sia un'ennesima copia vabbè peccato però primo leggendario finora su 18 mila gemme non era uscito neanche uno quindi continuiamo sperando ragazzi di essere un pochino fortunati di trovare un rodolfo o un michael magari dai dai ragazzi questa volta in un server inglese demone dei ghiacci attenzione sono usciti una marea di verdi ragazzi stanno uscendo una marea di verdi ma nemmeno un viola finora soltanto quello stregone dai attenzione no sirena no sirena dai adesso deve spararmi leggendari troppe gemme tutti blu dai dai è il triplo ragazzi qui il triplo lo voglio voglio rodolfo attenzione vlad che sicuramente ha sicuro è infatti livello 151 ma mi pare mi aveva chiesto la copia di vlad infatti non aveva neanche una copia lì serviva per l'evoluzione quindi dai almeno abbiamo trovato un vlad proseguiamo 10.000 gemme ragazzi mi dispiace prima avervi fatto vedere quelle 4.000 ma non è successo niente e quindi spero che tutto il bello arrivi ora con questo altro triplone vai e invece niente da fare sciamano e tu panda attenzione warwolves gelatina ragazzi panda niente da fare ciclope e dai caccialo ora ragazzi è incredibile perché dicono che nel server inglese si droppano più eroi ma dove sono questi eroi in più io non li vedo non li vedo continuo a controllare ragazzi mi sta registrando perché mi è partita la paranoia allora attenzione tritone niente da fare cristallusi niente ragazzi niente niente non ci posso credere non ci posso credere ragazzi provo a uscire rientrare a sloggare perché a me pare una cosa assurda riproviamo ragazzi riproviamo non so che cosa dire deve uscire qualcosa assolutamente assolutamente dai triplo ragazzi è assurdo 18.000 gemme abbiamo trovato soltanto uno una copia di stregone e una copia di blood io non ci posso credere non ci voglio credere deve darmi qualcosa devo droppare un michael che non l'ho mai preso un altro stregone non ci posso credere ragazzi non ci posso credere cioè ma non può uscire un michael dai e invece no ragazzi niente da fare executioner ciclope niente ragazzi niente io voglio provare un altro triplo perché voglio che magari dopo tutti questi blu davvero migliaia e migliaia di gemme di blu un bel triplo leggendario che mi succede per la prima volta vai e invece niente da fare incredibile ragazzi voglio droppargli un nuovo eroe 18k gemme 4900 mancanti ti prego ti prego intanto paranoia che non mi sta registrando angel sciamano ingegnere ma niente ragazzi guardate quanti verdi quanti verdi non ci voglio credere 4.000 gemme moledizione esci fuori vai col eccolo e invece no campione ragazzi campione non ci voglio credere 3.300 gemme non ci posso credere ciclope il panda ragazzi non ci siamo proprio non ci siamo proprio dai ti prego un eroe nuovo 2500 gemme dai dammela questa gioia ti prego ragazzi sono sconcertato non ho mai fatto un rolling così tutti questi blu sembra onnige dai soltanto 1500 gemme le dobbiamo lasciare 150 per un eventuale missione quindi davvero gli ultimissimi roll ci vuole il miracolo ragazzi voglio darglielo in questo triplo guardate quanti pochi eroi leggendari sono usciti quindi dai e invece niente da fare ragazzi niente da fare non ci voglio credere ultimissime gemme solo un miracolo solo un fottuto babbo natale vediamo se non ce l'ha ma ce l'ha sicuro ce l'ha sicuro ce l'ha sicuro ce l'ha sicuro ce l'ha però forse gli serviva la copia spero che almeno gli ho fatto risparmiare qualche frammento con questo rolling spero che almeno gli ho oh almeno ragazzi un doppione che gli serviva babbo natale ma ultimo ultimi due roll ragazzi ultimi due roll unbelievable attenzione duca zucca che però non è un eroe nuovo vedo che qui c'è un duca zucca non è evoluto quindi con molta probabilità magari anche una copia che potrebbe servire anche le zucche si prendono in quantità invece cinque ragazzi ce ne sono in abbondanza e quindi davvero ultimo roll ultimo blu proviamo almeno a vedere se da questi scrigni ci vuole dar qualcosa allora vediamo 900 honor ok master jacks bag livello 1 30 meriti ragazzi mille onori proviamo il 4 abbiamo vinto 10 pietre moltanica ragazzi incredibile mai preso delle robe così in questi scrigni e pietre moltanica vabbè dai almeno 10 pietre muraghi un ventesimo di moltanica abbiamo droppato 80 shirts però riproviamo questo 30 meriti riproviamo il 4 80 gemme vabbè dai però almeno frammenti moltanica niente da fare ragazzi questo rolling una cosa davvero incredibile perché 18k gemme sembrava che la sfiga già si iniziasse a colpire dall'inizio perché si è bloccato il recorder per la prima volta e davvero mi dispiace di non averli trovato né re di vivo e né michael che erano una delle due richieste che mi aveva fatto e soprattutto di averli trovato soltanto un paio di copie che per carità fanno risparmiare frammenti che in questo momento del a 41k di potere sono davvero tantissimi frammenti però almeno la soddisfazione la gioia di ragazzi di riportare un eroe nuovo almeno in questo account e invece questo server inglese davvero sentivo parlare del fatto che sul server inglese si droppassero più leggendari e invece a me sembra che se ne droppano meno io non lo so ma non so se sono stato sfortunato io in questo caso in questo particolare role vediamo abbiamo 4 uova una blu un'altra blu un'altra blu un verde ragazzi tre blu di fila almeno le uova qualcosa abbiamo preso mi dispiace davvero perché gli volevo trovare qualcosa di più e soprattutto ragazzi chiedo ancora scusa per quelle 4000 gemme che non sono state riprese ma sono esattamente un po come tutto il resto sono usciti solo ed esclusivamente eroi blu anche perché mi sarebbe dispiaciuto 10.000 volte tanto se fosse uscito in quel frangente di tempo in quel minuto qualcosa perché si è bloccato ragazzi e quindi che dire lasciate un bel like al video se vi è piaciuto ragazzi perché che cosa posso fare di più di tirarmi la roba come se non ci fosse un domani che però non esce e quindi like commento e ci vediamo come sempre nel prossimo video iscriviti al canale